La Guardia Costiera di Alghero è intervenuta a seguito di una segnalazione da parte di un privato cittadino all'interno dell'area marina protetta di Capocaccia Isola Piana. Un pescatore sportivo stava operando abusivamente davanti a punta del cerchio, nella zona di riserva. L'uomo colto sul fatto ha guadagnato la riva e ha cercato di raggiungere la propria automobile parcheggiata poco lontana. Il pescatore è stato però raggiunto dalla Guardia Costiera e identificato per poi essere segnalato alla procura della Repubblica di Sassari.